Continua il graduale processo di rigenerazione degli alberghi di Pesaro chiusi e abbandonati da anni. Processo recentemente accelerato dal volano di Pesaro capitale della cultura 2024 che ora restitura altri 200 posti letto alla città attraverso la riqualificazione degli hotel sporting, la bussola e international. L'assessora alla rapidità Mila dell'Adora ha infatti annunciato l'approvazione in giunta di due importanti varianti al PRG richieste da privati. La prima riguarda l'hotel sporting edificio degli anni 60 di via Nazario Sauro chiuso dal 2007 e recentemente acquisito dalla Duca Holding riconducibile ad Enzo Camillini di Tecnoplast. La variante avvia un processo che punta ad avviare in primavera il cantiere che trasformerà una parte dell'immobile da turistico ricettivo a misto ricettivo residenziale. Saranno mantenuti gli attuali 92 posti letto dell'hotel sporting nell'attuale struttura di sei piani e su un'ulteriore edificazione nello spazio riservato attualmente alla piscina. I primi due piani saranno riservati all'accoglienza turistica, dal terzo al sesto saranno residenziali. L'altra delibera al secondo passaggio in giunta riguarda la variante non sostanziale al PRG relativa alla bussola, altro hotel in via Nazario Sauro chiuso dal 2013. Via libera dunque l'operazione della società privata Silver Fox per modificare anche in questo caso la destinazione a mista fra turistico ricettivo e residenziale. La capacità ricettiva dell'hotel la bussola di 56 posti letto andrà dunque a incrementare quella dell'hotel International ad angolo fra Viale Battisti e Via Da Vinci, International che verrà demolito e ricostruito con una capienza totale di 121 posti letto. Interventi che andranno conclusi entro cinque anni dal rilascio del permesso di costruire. Interventi che andranno conclusi entro.